Andrea, fammi questo numero. Appena l'hai fatto, manda lo sacchetto di amore e dolore e mandami in diretto, ok? E che vuoi fare? O sacci o sacci? Ma? Ma? Ma rispondimi tu per favore, non posso? Che giornata, aspetto un momento. Pronto? Buongiorno signora, sono Gerry, c'è Shandra? Ah, eccolo, chi lo che non so vede. Lo so che ci sta, per favore mi fa parlare con lei? Gerry, figlio mio, questa volta ti sei inguagliato e comunque mia figlia veramente non ci sta. Ci sta, ci sta. E seppure ci fosse, non ti vuole parlare, non ti avrei manco in fotografia. Signora, ma che figura mi fate fare? Sto in diretta. Dove sta Shandra? Voglio parlare con lei. Non può venire, si sta facendo la doccia. Stasera esce. Ma allora ci va alla festa? Eh, così pare. E con chi ci va? Mia figlia tiene la folla appresso degli uomini, la folla a cussì. Eppure gli tenga la folla appresso e la cussì, vabbè, ci capisci? Vabbè, vabbè, Gerry, arrivederci, buona giornata. Guarda, pronto? Ciao. Eh, eh, dimmi, dimmi, dimmi. Ecco, io volevo parlare di quello che è successo, tutto qui. Eh, senti, senti, hai ragione tu, guarda. Hai ragione tu, dobbiamo pensarci. Guarda, io penso una cosa, che è meglio che rimi... sì, che restiamo soli. Io... non ci posso credere. Eh, va bene, allora fai una cosa, non chiamarmi mai più. Ciao.